Benedizione di Luigi Pirandello Io non so com'è la gente, soleva ripetere Don Marchino perlomeno una ventina di volte al giorno, insaccandosi nelle spalle e aprendo le mani a ventaglio davanti al petto, con gli angoli della bocca contratti in giù. Io non so com'è la gente, perché la gente in tanti e tanti casi non si regolava come egli si sarebbe regolato, o anche perché la gente spessissimo trovava da ridire su tutto ciò che faceva lui e che a lui pareva ben fatto. Ma santo cielo, per qual mai ragione fin da principio lo avevano veduto così male a Stravignano i suoi parocchiani? Non gli perdonavano d'aver ridotto a podere, col beneplacito dei superiori si intende, il querceto che prima sorgeva dietro la chiesetta a valle e prendeva tutto il beneficio della cura. E quel benedetto podere ancora non lo mandavano giù. E neanche il quartierino di quattro stanze che aveva fatto fabbricare coi denari ricavati dalla vendita degli alberi, attaccato alla chiesetta, come di là era attaccata la casuccia a terreno per sé e per la sorella Marianna. Ma con parte di quei denari non s'era forse anche riattata la chiesetta? E che male c'era se ogni anno d'estate affittava quel quartierino a qualche famiglia che veniva a villeggiare a Stravignano. Gli stravignanesi volevano per forza più povero di Santo Giobbe il loro curato. E il bello era questo, che da un canto egli doveva essere il servitore di tutti, ma guai dall'altro se lo vedevano con la zappa in mano o vadare alle bestie. Perché non si sporcasse la zimarra, eh? Perché non gli si incallissero le mani che dovevano toccare l'ostia consacrata? Ma la coscienza, la coscienza non doveva essere sporca o incallita, non le mani. Don Marchino aveva ragione, ma seppur si vedeva non si accorgeva più che tanto lui quanto la sorella Marianna, avevano le gambe a modo delle papere, sulle quali, andando, si dimenavano proprio come due papere, tutte e due della stessa statura, grassottelli e senza collo. Don Marchino non si sentiva parlare o, seppur si sentiva, non aveva l'impressione che la sua voce, oppressa dal naso sempre intasato, fosse miagolante. Ora, l'antipatia che i suoi parocchiani avevano per lui dipendeva anche, e non per poco, da queste cose di cui egli non si poteva rendere conto, la figura, la voce e anche il suo particolar modo di parlare. Per esempio, gli andavano a chiedere in prestito la somara, in un caso d'emergenza, come sarebbe di andare a chiamare a un bisogno di notte il medico a nocera? Don Marchino rispondeva invariabilmente, non ti ci fa arrivare, ti accadrà di romperti due o tre volte il collo bello mio, mi contento di tre e non di più. Parlava così, ripetendo spesso di queste frasucce argute che aveva sentito dire chissà quando e da chi, ma le ripeteva ormai come se fossero un modo di dire naturale, senza alcuna intenzione d'arguzia. Quella somara poi era viziosa davvero, così viziosa che, a prestarla, Don Marchino, credeva in coscienza di non potersi arrischiare a cuor leggero. Se tante volte, santo cielo, essa non permetteva neanche a lui di far montare qualcuno sul biroccio. E per non farsi mordere o calciare, quando doveva sellarla o attaccarla, gli toccava usarle le maniere più garbate e dirle tante dolci paroline e ammonirla paternamente, d'aver pazienza e rassegnazione, poiché Dio aveva voluto farla nascere somara. Ma sfido, dicevano a Stravignano, quella somara a cui attendeva quasi sempre Don Marchino, le galline e i tre maiali a cui attendeva sempre la sorella Marianna, le due vacche a cui attendeva Rosa, la serva scalza, nel vedere in mezzo a loro quel padrone lì e la sorella come due papere, dovevano sentire per forza una certa affinità bestiale con essi, per cui si pigliavano confidenze che, certamente, con altri padroni non si sarebbero permesse. E ridevano tutti del poco rispetto che quelle bestie maleducate portavano al loro curato e alla sorella, dei dispetti, forse amorosi, che i tre grossi maiali cretacei facevano alla Marianna, della disperazione di questa nell'andar cercando ogni mattina le uova che le galline apposta le nascondevano, scappando a fetare di qua e di là, tutte con le calze al piede quelle galline, perché non si scambiassero. E i porchettoni, perché no, sora Marianna, con un bel fiocchetto celeste alla coda? Ma guardate se queste erano cose da dire alla povera sorella di un povero curato, che non dava fastidio neanche all'aria. Ma... e Don Marchino si insaccava nelle spalle, apriva a ventaglio davanti al petto le mani e, contraendo gli angoli della bocca, ripeteva Io non so com'è la gente. Ebbe più che mai ragione di ripetere questa sua abituale esclamazione il giorno che scesano c'era per il mercato del bestiame. Non aveva né da comprare né da vendere, andava soltanto per vedere e sentire. Gli scadeva quell'anno il contratto con i coloni della cura di cui era scontento. Aveva già dato voce che per l'anno nuovo si sarebbe messo con altri. Ora il tempo era venuto e là, alla fiera, tra la gente di campagna, corsa da tutti i dintorni, voleva sapere chi comperava e chi vendeva e i discorsi che si facevano su questo e su quello. Proprio con loro che in chiesa non si vedevano mai o neppure per le feste principali, lo accusarono quel giorno d'aver lasciato la cura per andar braccando la fiera fino alla calata del sole. Ma questo fu niente. Quando era già montato sul biroccino per ritornarsene a Stravignano, con tutto quel ventaccio che s'era levato all'improvviso, gli si fece incontro una certa annunziata, con un ragazzo di circa otto anni sulle braccia e una capretta dietro, gridando che le desse aiuto per amor di Dio. Da ragazzina, tanti e tanti anni fa, questa annunziata aveva prestato servizio alla cura. Sotto gli occhi di Don Marchino s'era fatta la più bella giovine di Stravignano e Don Marchino avrebbe voluto darla in moglie al figliuolo del suo vecchio colono d'allora, buon ragazzone che se ne era innamorato. Ma tutta un tratto, senza volerne dire la ragione, ella aveva voltato le spalle a questo giovine e si era sposata con uno del prossimo villaggio di Sorifa. Erano ormai passati nove anni, Don Marchino aveva già mutato quattro coloni, stava per mutare il quinto ed inunziata, uscita dalla parrocchia, non s'era più dato pensiero. A Stravignano, dapprima, avevano detto che ella a Sorifa stava bene che il marito era un buon lavoratore. Poi avevano cominciato a dire che stava male perché al marito era venuta una brutta malattia alle reni per via ad un ramo che gli s'era sciancato sotto mentre lo potava. Pareva che il male gli avesse covato dentro e poi dato fuori intanto gonfiore alle gambe per cui il medico gli aveva proibito di lavorare e consigliato di starsene al letto ben guardato e di nutrirsi di solo latte. Bei consigli da dare a uno che campava con le sue braccia. Stentò a riconoscerla Don Marchino, lì a Nocera, come una mendica, coi piedi scalzi e quella vesterella che faceva più compassione perché voleva apparere nuova. Ma la somara, tra il vento furioso, tra il rimescolio della gente e delle bestie che si affrettavano al ritorno sotto la minaccia ad una grossa burrasca, si era più che mai stizzita e non voleva più stare alle mosse. Sicché appena annunziata chiese per carità che Don Marchino si togliesse sul biroccio fino a stravignano quel ragazzo che non le si reggeva più in piedi, malato anch'esso, peggio del padre, che poi ella più tardi, passando per lo stradone per ritornare a sua rifa, se lo sarebbe ripreso, Don Marchino, che faceva sforzi Erculei per trattenerla somara, provò un dispetto feroce e, sgranando tanto d'occhi, le gridò, Ma ti pare, figliuola mia? Gli crebbe il dispetto quando alcuni curiosi che s'erano fermati a guardare pensarono bene di tener ferma e quieta la sua mara perché egli avesse agio ad ascoltare quel che voleva da lui quella povera donna così abilita. E poi, ostinandosi egli nel rifiuto con la scusa delle smanie stizzose della sua mara, gli gridarono che se ne doveva vergognare, per Dio, un sacerdote. La sua mara? Ma che sua mara? L'ha due belle frustate, due buone strappate di briglia, quella poveretta, quel povero piccino, ma lo guardasse giallo come la c'era. E quella capra? Oddio, che aveva? Le si potevano contare le ossa. Ah, da sorifa? Se l'era portata giù da sorifa a piedi per cercare di venderla. Quanto? Nove scudi? Ah, nove scudi l'aveva comperata. Adesso neanche mezzo scudo. Non era proprio il caso per Don Marchino di esclamare, io non so com'è la gente. Che obbligo poteva aver lui se quella donna da tant'anni non era più della sua parrocchia? Per carità? Così, di prepotenza? Ma no, no e poi no, perché era anche contro ogni ragione. Che carità! La prima carità avrebbe dovuto averla lei, madre, per il suo piccino, a non portarselo così malato per tanta via. E sarebbe stata carità facile. No, signore, costringere a una carità difficile chi non ne aveva nessun obbligo. Difficile, sicuro, difficile per tante ragioni. Un carico di quella fatta, un ragazzo malato che non si reggeva ritto, con una somara. Ma sì, ma sì. Lo doveva dir lui che la conosceva bene. Con una somara che non voleva saper d'altri carichi, e specialmente in salita, e con tutto quel vento. No, no, via, via! Largo, largo! E minacciando con la frusta, Don Marchino prese la corsa, seguito da urli, fischi e altri rumori sguaiati. Il vento lo investì alle spalle, e parve lo volesse sollevare dall'erto stradone con tutta la somara e il biroccino, come sollevava la polvere e le foglie morte. Quando, a sera chiusa, scese dal biroccino davanti alla chisetta, attaccata alla cura, là, a uno svolto dello stradone, si sentì il braccio intormentito dallo sforzo di reggersi in capo il nicchio buono, felpato, che se ne voleva scappar via con quel ventaccio maledetto, il quale urlava così forte, e così forte faceva stormir gli alberi, qua del viale e là del poggio incontro alla chiesetta. Che la Marianna, ecco, non aveva sentito il bubolo della somara e non era accorsa, come le altre volte, a dargli subito una mano. Bisognò che la chiamasse, picchiando anche col manico della frusta alla porta, col rischio, e come no, di sciupar frusta e porta. Marianna, al picchio, venne fuori col lume. Brava oca! Il vento glielo spense subito e, uh, le sottane! Ma Dio benedetto, che testa! E il lume, tutte le sottane rivoltate in faccia, mamma mia, col lume in mano per fare una vampata. Via dentro, via dentro! E Don Marchino, arrabbiatissimo, si mise da solo a staccarla la somara, borbottando anche per la sorella. Io non so com'è la gente. Condotta Nina alla stalla, che era scavata nel poggio incontro alla chiesetta e tirato il biroccio, prima di entrarne la cura, disse alla sorella che sarebbe stato opportuno metter fuori le conche e le botticine, perché quella notte, senza dubbio, sarebbe piovuto, abbattendo il vento. A Nocera aveva sentito brontolar il tuono. È ancora alla lontana, ma si viene accostando e ci darà dentro per davvero questa notte. A cena, poco dopo, ingollando svogliato quella bioscia che Rosa gli aveva apparecchiata, narrò a Marianna il caso che gli era occorso a Nocera, della bella sfacciataggine di quella annunziata e della prepotenza che gli volevano fare. Ma poi, confortato dal buon binetto della vigna, che per un pezzo dopo cena si gusteggiava a sorsellini, non ci pensò più. Si mise a parlare di quel che aveva veduto e sentito alla fiera, e intanto guardava in giro, satollo e pago, quella sua comoda e tepida saletta da pranzo, e fumava la pipa, mentre Marianna medicava i piedi di Rosa, per carità, sì, ma anche perché essa, la mattina dopo, alla punta dell'alba, non vi trovasse una scusa per non condurre al pascolo le vacche. Il vento fuori seguitava urlare più che mai minaccioso. Il vento? Ma no, era proprio qualcuno che picchiava la porta. «A quest'ora?» disse Don Marchino, guardando costernato la sorella e la serva. Questa andò a vedere, e fratello e sorella tesero gli orecchi. Stettero un pezzo così, sospesi. Si udiva di là a parlare, ma nell'uno nell'altra riuscivano a indovinare chi fosse. A un tratto, nel vento, un lungo e tremulo belato lamentoso. Don Marchino diede un pugno sulla tavola, scrollandosi tutto rabbiosamente. «E lei? Ancora?» disse. «Ma che vuole da me costei? Che posso farle io?» E a Rosa, che rientrava in quel momento, domandò. «Alloggio? La somara? Che vuole?» Rosa negò col capo. «Dice se lei volesse avere la bontà di farle una benedizione». Don Marchino cascò dalle nuvole. «Una benedizione? A chi? A lei? T'ha detto una benedizione? Che benedizione? Va, falle entrare, ma sola. È capace di trascinarmi qua dentro la capra e il figliuolo. Una benedizione a quest'ora». Nonziata entrò coi piedi scalzi, rabbiandosi con le mani e i capelli scarmigliati dal vento. Alla vista di quella saletta quieta nella casa del suo vecchio curato, che le ricordava altri tempi, dal capo si passò le mani sul volto e si misa a piangere. Marianna, allora, le domandò del marito se davvero stava tanto male e lei disse di sì a cenni. «Ma che è caso di morte?» «Proprio a questo no. Pare che non sia venuto ancora», rispose. «Ma...» e scosse il capo, non però desolatamente, anzi con un lampo d'odio negli occhi lagrimosi. «So chi è stato», gridò. «Quà, qua, me l'hanno fatto qua il malocchio. Mi sapevano contenta e tranquilla e non gli è bastato su lui. Anche sul figliuolo me l'hanno fatto e sull'unica bestiola rimasta, che la guardavo come la pupilla degli occhi, perché mi faceva il latte per lui. Ah, infami, infami!» Fino a poco tempo fa, narrò. Quella capra, comperata per nove scudi, era l'invidia di tutti. Ora, mentre il ragazzo la badava al pascolo, tutta un tratto le si era spaurita. Tutti e due, il ragazzo e la capra, le erano ritornati in casa una sera, così spauriti, ed allora un deperimento continuo. Il ragazzo, ah, bisognava vederlo di là come si era ridotto, e la capra, la capra peggio del ragazzo. Nessuno l'aveva voluta la fiera, neanche per due scudi. Don Marchino, quella sera stessa, glieli doveva benedire tutti e due, per carità. «Ma se ci hai il tuo curato adesso, assorifa!» le disse agro Don Marchino. «No, è lei, è lei il mio curato!» supplicò annunziata. «E quali voglio benedetti, perché di qua è partito il malocchio! E io lo so, io lo so!» Don Marchino ci provò a dimostrarle che era una superstizione sciocca quella del malocchio, e che se ella ne incolpava quel giovane con cui da ragazza aveva fatto all'amore, via, non ci pensasse neppure, perché quello... Ma no, nunziata non volle dire chi ne incolpava, voleva la benedizione, voleva. «Ma a quest'ora!» ripetè Don Marchino sbuffando. S'intese di nuovo nel vento il tremulo belato della capra. «La sente!» disse enunziata. «Per carità!» «Ma tutti e due no, allora!» protestò Don Marchino. «E' a far lungo, cara mia, ed è già tardi. Mi disponevo ad andare a letto, figurati. Via, sbrighiamoci, o la capra o il figliuolo. Chi n'ha più bisogno?» «Il figliuolo!» rispose subito enunziata. E buttato lì fuori sulla panca del sagrato come uno straccio. «Ah, quel che ho penato, Don Marchino mio, a trascinarmelo fin quassù, un po' a piedi, un po' su queste braccia che non me le sento più!» Don Marchino montò su tutte le furie. «Ma come si fa, dico io, come si fa a portarsi fino a nocera un ragazzo in quello stato!» «Ma perché la capra, Don Marchino, s'affrettò a spiegargli enunziata, non vuole più dare un passo senza di lui. La bestiola sente che tutti e due sono legati dallo stesso male e lo chiama e gli parla e non vuole più scostarsi da lui. Basta! Dunque, il ragazzo!» concluse Don Marchino. Nunziata restò perplessa a pensare, poi disse «Se non vuole tutti e due…» «No, tutte e due no, o l'uno o l'altra, abbiamo detto!» «Ebbene, allora mi benedica la capra, che mi rifaccia almeno il latte per il mio gigi! Ecco!» Uscita all'aperto, nel vento, nel buio della notte tempestosa, volse prima gli occhi alla panca su cui il figliuolo si era raggricchiato a dormire. «Gildino!» chiamò. Il ragazzo non rispose, e allora ella provò uno strano sgomento allo spettacolo della natura quasi tutta in fuga nell'urlante vemenza del vento. Fuggivano squarciate pel cielo, con disperata furia alle nuvole a schiera infinita, e pareva si trascinassero seco la luna. Gli alberi si contorcevano cigolando, spasimando senza requie, come per sradicarsi e fuggire pur là, pur là, dove il vento portava le nuvole a un tempestoso convegno. Ella sciolse la capra legata a un tronco d'albero, e stette un bel pezzo all'aspetto lì davanti alla porta della chiesetta, perché Don Marchino volle prima finirsi il bicchiere senza fretta, poi dovette rindossare la tonaca e prendere il libro e l'aspersorio e la lumierina a olio. La capra non poteva entrare in chiesa, la benedizione doveva esser fatta lì davanti la porta. Don Marchino, dall'interno, ne aprì mezza. Collocò la lumierina su una traversa dell'altra mezza, per ripararla dal vento. La donna, tenendo la capra per il collo, si inginocchiò davanti a quello spiraglio di luce vacillante. Bisogna adattarsi così, disse il prete. Sì, Don Marchino, ma me la faccia bene, per carità. Santo cielo, vuoi che te la faccia male? Qua, com'è scritta nel libro, te la faccio. E con le lenti insellate sulla punta del naso cominciò a miagolar lo scongiuro. Di tratto in tratto la capra belava e volgeva il capo verso la panca dove giaceva il ragazzo. A un certo punto Don Marchino si interruppe. Senti, eh? Amalis oculis, amalis oculis, che vuol dire appunto dal malocchio. Ella che accompagnava inginocchiata quello scongiuro, pregando col più intenso fervore, all'interruzione chinò più volte il capo, per significargli che aveva capito. Sì, sì, amalis oculis, amalis oculis. Finita la benedizione, Don Marchino si affrettò a richiudere la porta della chiesetta con la scusa che il vento poteva spegnere la lumierina e lasciò fuori la donna ancora inginocchiata. Ma non era ancora arrivato a passar dall'interno della chiesetta alla cura che udì uno strillo, un ululo di belva ferita, là, nel sagrato. Gli vennero incontro la sorella e la serva spaventate. Che altro c'è? gridò Don Marchino. Oh, sentite, io non mi scomodo più, neanche se casca il mondo. Ma dovette purtroppo scomodarsi, poiché tutta Stravignano scasò quella notte alle grida di quell'infelice che aveva trovato morto sulla panca il figliuolo. E questa volta dovette anche prestarla somara, Don Marchino, a coloro che, caritatevolmente, si proffersero di condurre a Sorifa il morticino. Dimenandosi sulle gambe a roncolo, tra la folla agitata nel vento, badava a dire. Ha voluto benedetta la capra, oh, non il figliuolo. Ma poiché tutti gli voltavano le spalle indignati, protendeva il collo, apriva a ventaglio davanti al petto le mani e, contraendo in giù gli angoli della bocca, ripeteva tra sé. Io non so com'è la gente. Ti è piaciuto il video? Allora metti like, sostieni il canale, è sufficiente un semplice like. Vuoi farmi sapere cosa ne pensi? Lascia un commento, ti risponderò. Anche questo può aiutare il canale. E se ti è piaciuto questo audiolibro, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie.